Sì, abbiamo ottenuto dal governo il nostro contributo inerente alla costruzione della scuola primaria di Osteria Nuova di 1.100.000 euro. Questo contributo che abbiamo ottenuto è uno dei contributi in assoluto più alti che il Comune di Montalavate abbia ricevuto e lo intendiamo investirlo già da quest'anno su delle opere. Quindi sono già segnate nel piano triennale delle opere pubbliche, procederemo con la realizzazione del marciapiedi sulla via provinciale Osteria Nuova, la conclusione del secondo stralcio dell'impianto sportivo Osteria Nuova e la realizzazione della piazza con la riqualificazione del Parco Omburga Montalavate. Inoltre abbiamo già messo in atto la riscossione della fiduzione inerente all'area MR1A, sarebbe un quartiere qui a Montalavate che le opere devono essere concluse, quindi visto che è scaduta la convenzione abbiamo già chiesto la riscossione della fiduzione all'assicurazione e proprio in questo ambito di realizzazione delle opere mancanti stiamo valutando l'espansione e la realizzazione del pezzo mancante dell'asilo costruito in via Don Milani. Certamente questo non verrà realizzato nel 2021, verrà iniziata la progettualità perché comunque dobbiamo anche tenere conto dell'impegno che poi gli uffici si devono mettere nella realizzazione dei progetti, nel seguire i cantieri e tutte queste cose. Cerchiamo comunque di reinvestire i contributi che abbiamo ottenuto questi, quelli inerenti alla mensa biologica, quelli inerenti all'educazione e ai servizi educativi, certamente sul territorio e dove è possibile anche nel sollevare le famiglie restituendo piccoli contributi che ci hanno dato la regione. Capitolo sicurezza perché verranno installate anche telecamere intorno al comune? Sì, allora questo è un progetto che invece abbiamo già approvato e finanziato nel 2020 prevede l'installazione di 30 telecamere su tutto il territorio comunale, sarebbe Apsella, Montelabate, Osteria Nuova, credo che qualcosa vada anche a Borgo Marcellino, non ricordo. Abbiamo provato a partecipare a un progetto sulla sicurezza, un bando, per pochissimi posti non siamo rientrati. È un progetto comunque che vede un esborso comunale di 180 mila euro perché comunque sono telecamere in alcuni punti dove viene rilevata la targa, in altri punti viene effettuato il controllo di, come posso dire, se i mezzi sono in regola e queste cose qui. Sono già iniziati i lavori perché comunque bisogna fare tutta l'installazione dei pali in quanto le telecamere non possono essere agganciate sui pali della pubblica illuminazione. Prevediamo entro la fine di febbraio di essere a regime con tutto.